Salve a tutti ragazzi, sono Dan3dn e benvenuti in questo nuovo video Allora ragazzi, sembra che i problemi con l'internet si siano risolti Quindi ricomingerò a caricare i video E riprenderemo con la nostra routine settimanale Di minimo 2 video a settimana Massimo 5 video, spero Oppure quando ho avuto, sono tanti video 7 video a settimana, quindi tutti i giorni Volevo ringraziarvi perché siamo arrivati quasi a 50 iscritti ragazzi Anzi, saremmo arrivati per un piccolo lasso di tempo Ma non ho potuto ringraziarvi perché non avendo internet non ho potuto caricare questo video Infatti ragazzi, il video che ho caricato, due video, giusto per non lasciare scoperto troppo tempo il canale Le ho caricati uno da Jegla, Zegla e da Intimate Che ringrazio tutte e due per avermi reso la loro rete, internet Beh, l'ultima cosa, più o meno da oggi Iniziamo a caricare i video molto velocemente Perché in questo tempo non ho caricato Però ho registrato abbastanza video Anche per Jegla Che a poco caricherà i nuovi video che abbiamo fatto Beh, ho incominciato anche una nuova serie Però non dico quale, sennò vi non vedete a vedere il video Quindi questo è quello che volevo dirvi Domani ci vediamo con il video di FIFA Per domani La notte è tutto E vabbè, non qua non è mai che ti lasciamo mi piace un commento Perché comunque questo era solo un video di avviso veloce Ci vediamo al prossimo video